Da quando c'è lui in campo il cammino della Fidelisandria non è mai stato interrotto da una sconfitta esperienza, voglia e amore per la maglia della propria città sono questi i punti di forza di Giuseppe Abruzzese, Andriese Purosanque e talismano della formazione allenata da Aldo Papagni. L'ex capitano del Lecce mira dritto alla sfida di Domenica contro il Matera per conquistare punti in chiave salvezza. Mi auguro di continuare su questa striscia positiva, diciamo che nell'ultimo periodo, negli ultimi due mesi abbiamo disputato delle ottime partite, soprattutto abbiamo messo in cascina tanti punti che ci hanno permesso di risalire la classifica. Adesso abbiamo una partita importante domenica dove affrontiamo una squadra organizzata, una squadra importante perché al netto della penalizzazione è una squadra che è la quinta in classifica. Quindi giochiamo davanti al nostro pubblico con la consapevolezza che abbiamo una partita difficile ma questa partita può darci la possibilità di un ulteriore slancio in classifica. Abruzzese sa quanto è fondamentale l'apporto dei tifosi in momenti della stagione come questo e quindi fa un appello all'intera città per riempire il Degli Ulivi. Osservavo le tribune, osservavo le curve e immaginavo arrivare a fine stagione e riempire lo stadio. L'invito mio è quello della gente, diciamo di fare, noi abbiamo il nostro seguito, abbiamo il nostro zoccolo che è sempre con noi, però ad ogni andriese di fare un qualcosina in più per la città, per la propria maglia, di starci vicino perché queste sono tre partite dove per noi sono importanti. Finire con grande entusiasmo questa stagione veramente vuol dire tanto, vuol dire rilanciare la città, vuol dire rilanciare la squadra. Starci vicino perché veramente se siamo compatti come ambiente l'Andria può tornessi grandi soddisfazioni. Sul futuro il centrale andriese spera di continuare a vestire la maglia bianco-azzurra, augurandosi di poter dar seguito agli ultimi positivi mesi. Io me lo auguro perché ho voluto fortemente tornare ad Andria perché quando a gennaio c'era la possibilità, un po' come andriese, ho sentito l'esigenza di tornare vedendo come erano le cose. Sono contento perché tutti i sacrifici che la squadra ha fatto, che abbiamo fatto per risollevare la squadra, ci riempiono d'orgoglio quando poi vediamo il nostro seguito, quando vediamo la gente che è contenta. Noi lavoriamo per questo e ci auguriamo di continuare su questa strada perché veramente portare entusiasmo in una piazza come questa è un motivo d'orgoglio sia per i giocatori sia per tutto l'ambiente.